Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Altra sfida, altro monolite e siamo di fronte alla mano di Titano. Quindi qua dovremmo giocare in casa praticamente perché Titano è la mia summon preferita o comunque è il mio Icon preferito e in teoria qua dovremmo giocare abbastanza facile. Bisogna vedere anche però quali attacchi abbiamo. Pugni furiosi e stravolgimento. Va bene. Ci siamo, ci siamo. Sì, se magari mi attaccaste... No. Come volete voi. Ah, non ci posso pensare a sta cosa. Cioè vedi, i nemici poi non mi attaccano, quindi come faccio a sfruttare la parata? Se mi attaccano solo quando sono di spalle. Ecco, tu magari... Cioè vedi, i nemici poi non mi attaccano, 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 non mi attacc Va bene, fase 1 Pensavo di poter sfruttare meglio i pugni furiosi Ma se gli avversari non mi attaccano Non posso farci nulla Qui cosa abbiamo? Stravolgimento e pugno possente Va bene Grazie a tutti E i miei li attaccano quando sono di spalle Gli infami maledetti Ah vero qua non ce l'ho le parate E' vero non ce l'ho i pugni furiosi qua Ah questo spezza la guardia Eh peccato è vero qua non ce l'avevo i pugni furiosi Mannaggia ero convinto di avere i pugni furiosi Eh abbiamo pochi pochi poco tempo eh effettivamente perché non stiamo riuscendo ad accumulare un granché Qui abbiamo pugno possente e la furia terrena Ok quindi neanche qua Ok qui intanto i minion li facciamo fuori Ecco questi bisogna fare Vedi con questi aumenta E' finita E' finita Aia Oddio c'è anche quello Allora questi due sono infamissimi insieme Cioè oddio la gelatina la possiamo anche parriare quindi Per cui va bene Però minchia Tu sei un pezzo di merda Ecco Vabbè Va investito malissimo Però brutto Madonna sta fase è bruttissima Qua diciamo che col fatto io sono livello 48 Mi aiuta Aiuta tanto Perché ho giustamente le tecniche potenziate Quindi aiuta tanto Ok qui dovevo avere per forza i pugni furiosi Qua se non mi dai pugni furiosi siete delle merde Che lui è tutto melee Ecco pugno furioso e furia terrena Perfetto Easy Questo è il mio setup Questo è il mio setup Questo è il mio setup Mi fa il doppio attacco Con la spada E' un'altra Dio Eh, stava scadendo il tempo Incredibile Cioè con Titano Che tecnicamente è una delle mie summon preferite Abbiamo fatto probabilmente Il peggio del peggio del peggio Cioè, l'abbiamo completato Ok, però come tempistiche siamo andati Veramente male A tempo finale mi mancavano praticamente 24 secondi Cioè Anche se paradossalmente abbiamo finito Prima di tutti, forse Come minutaggio Di video e di tutto Però va bene, l'importante Prova della terra Completata E va bene così Ok Ragazzi Detto ciò Ci siamo Ovviamente siamo ritrovati qui Nel deserto del velcro I settentrionale Con la mano del titano E ci becchiamo Con la prossima sfida Bye 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 Ciao 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 Ciao